Buongiorno, sono Itta de Benedetti Reynac. Mi chiamo come mia nonna e come mia nonna ho avuto una infanzia felice, una giovinezza spensierata, un matrimonio, una famiglia, ma la mia vita è continuata. La sua no. Nel 1938 ci furono le leggi razziali. Mia nonna era sposata a Ugo De Benedetti, un noto avvocato di Torino, e aveva due figli, Giancarlo, mio padre, unico sopravvissuto di tutta la famiglia, e Piero. A quell'epoca, nel 1943, quando furono catturati, aveva 11 anni. Avevo un bisnonno Ernesto Reynac, oltreottantenne, un imprenditore molto conosciuto. I quattro furono catturati per dei delatori, venduti per 5.000 lire dell'epoca. Il 6 dicembre del 1943 furono trasferiti a San Vittore, nel raggio Quinto. Ho visitato la cella, buia, umida, sporca, senza mangiare, per 15 giorni. Messi poi su un furgone, chiuso con dei teloni. La gente che vedeva questi furgoni passare da San Vittore verso la stazione centrale di Milano, sapeva chi c'era dentro, sapeva quello che stava succedendo, ma l'indifferenza regnava. Arrivarono al binario 21, furono messi nel vagone 05 per Auschwitz. Arrivarono ad Auschwitz sei giorni dopo. Mio bisnonno morì, probabilmente verso Bolzano. Il cadavere di Ernesto, Reynac, mio bisnonno, giaceva di fianco a loro per tutti questi giorni. Arrivarono a Auschwitz, il cadavere fu buttato fuori dal vagone e loro immediatamente passati nelle camera gas. È una storia incredibile e, come dice Primo Levi, se comprendere è impossibile, conoscere è necessario. È necessario perché queste storie non devono ripetersi. Sono state ripetute per sei milioni di persone, sei milioni di persone con l'unica colpa di essere nate ebrei oppure appartenere a degli zingari, oppure essere omosessuali, essere indicappati. Non è giusto. Queste storie vanno conosciute, vanno conosciute per non dimenticare. Queste storie vanno conosciute, vanno conosciute.